Gorgo, regina di Sparta, interrogata da una donna dell'Attica sul perché le donne spartane fossero le uniche a comandare sui loro mariti, rispose perché noi siamo le uniche a generare dei veri uomini. Oggi direi che parliamo delle donne di Sparta. Bentornati! Nel precedente video abbiamo visto l'educazione di uno spartiata. Se ve lo siete perso, nessun problema, vi lascio il link qua sopra, quindi mi raccomando andatelo a recuperare. A differenza di quanto detto per l'uomo, le notizie relative alla condizione femminile sono molto più scarne e, ancora una volta, non direttamente di mano spartana. Ma nonostante ciò possiamo comunque ricreare quella che doveva essere la vita di una spartiata. In effetti anche stavolta andremo ad analizzare le figure femminili facenti parte dell'elite della città. Licurgo, il noto legislatore che aveva impostato la vita civile, politica e sociale della città di Sparta, aveva deciso che anche le spartane dovessero sottoporsi a una rigida educazione, volta in primo luogo a rafforzare il fisico. Ed è così che le giovani spartiate dovevano quindi cimentarsi in tutta una serie di attività fisiche comprendenti diverse discipline. Plutarco, per esempio, ci ricorda che le giovani dovevano allenarsi nella corsa e nella lotta, oltre che nel lancio del disco e del giavellotto. Sappiamo poi che veniva curata anche la preparazione intellettuale delle ragazze e quindi canto, poesia, danza, tutte attività che venivano raccolte sotto l'unico termine di musichè, cioè l'arte delle muse. Mediamente la loro istruzione era superiore a quella delle altre donne greche e soprattutto non comprendeva tutta una serie di attività che generalmente erano ritenute di ambito femminile, come la tessitura, in quanto i lavori più umili erano delegati alla classe degli loti, l'abbiamo visto nel precedente video. Proprio come Elena di Sparta, la donna più bella dell'antichità, secondo la leggenda, anche le donne spartane erano note per la loro bellezza. Aristotele però le definisce lussuriose e smodate, pervase da un'audacia prettamente maschile e dedite al governo, e questa era un'opinione abbastanza diffusa, arrivando addirittura a definire le donne spartane con un appellativo, quello di mostra cosce, poiché è solito indossare per comodità una tunica corta durante le esibizioni ginniche. E tutto ciò deriva dal fatto che le donne spartane avevano una condizione molto particolare, quasi un unicum nella Grecia classica, dove generalmente la donna era relegata all'ambito domestico e godeva di una vita sociale estremamente limitata. Le spartiate invece non solo erano istruite e desonerate dalle attività domestiche, come abbiamo visto poco fa, ma erano addirittura tenute in grande considerazione all'interno della società spartana in quanto mogli e madri di soldati, e le fonti ci tramandano l'immagine di madri estremamente severe e attente a quello che doveva essere l'onore e il coraggio dimostrato dei propri figli. Questo atteggiamento è proprio riassunto perfettamente nella frase torna con lo scudo o sopra di esso, e fa riferimento al fatto che il figlio doveva tornare con il proprio scudo, quindi senza abbandonarlo in battaglia dimostrando così codardia, oppure morire coraggiosamente durante la battaglia stessa. Si occupavano dell'educazione dei figli maschi fino ai 7 anni di età, potevano partecipare alle processioni pubbliche e a gare di atletica nelle quali si esibivano semi nude di fronte ad un pubblico che poteva comprendere anche degli uomini. Sappiamo persino di una donna cinisca, che era la figlia del re Archidamo II, la quale partecipò alle olimpiadi e vinse per ben due volte nelle gare dei carri. Ora, le olimpiadi erano un evento sportivo dedicato esclusivamente ad atleti di sesso maschile, ma le gare dei carri facevano eccezione in quanto il vincitore non era l'auriga, cioè il conducente del carro stesso, quanto piuttosto il finanziatore, l'organizzatore della squadra, e in questo caso si poteva trattare anche di una donna. Bene, cinisca vinse per ben due volte e ottenne quindi due statue alle dedicate ad Olimpia ed un tempio a Sparta. C'è poi da considerare che quando gli spartiati partivano per la guerra l'amministrazione e la gestione dei beni familiari, compresi gli loti, ricadeva interamente sulle donne. Le norme di Licurgo poi imponevano una forte limitazione nell'ostentazione della ricchezza, motivo per cui uomini e donne riducevano molto il lusso nei vestiti. Ma la limitazione nell'indossare monili e ornamenti preziosi riguardava solo le donne nubili, mentre le mogli potevano indossare dei gioielli molto più liberamente. Già, le mogli. In effetti il matrimonio a Sparta è un argomento molto interessante da analizzare. A differenza delle altre polis greche, in cui le donne si sposavano molto giovani, intorno ai 15 anni se non addirittura prima, a Sparta l'età era fissata a 20 anni. Si riteneva infatti che questo fosse il momento migliore per generare figli, in quanto la donna aveva raggiunto la piena maturità fisica. E questo era motivo, ancora una volta, di dicerie, giudizi e pregiudizi da parte degli altri greci. Sul rito matrimoniale le fonti non sono concordi. Ad esempio, Plutarco ci racconta che veniva inscenato una sorta di rapimento e che gli sposi dovevano mantenere nascosta la loro relazione per un certo periodo di tempo. Il novello sposo infatti doveva abbandonare nottetempo il banchetto al quale stava partecipando, recarsi in una stanza buia nella quale avrebbe trovato la sposa, vestita con un mantello e con dei calzari, esattamente come quelli di un uomo, e con il capo rasato a zero. In questo modo la donna assomigliava in tutto e per tutto a uno di quei giovani che partecipavano alla goguè, come abbiamo visto in precedenza. Da altre fonti invece questo rito era precedente al matrimonio e i figli nati da queste relazioni che dovevano essere infeconde non erano riconosciuti come legittimi. Erano tali infatti solo a quei figli che erano nati quando i genitori avevano raggiunto la giusta età, quindi 20 anni per le donne e 30 anni per gli uomini. Quale fosse la versione corretta non ci è dato saperlo, ma appare più probabile la seconda ipotesi. La donna veniva promessa in sposa direttamente dal padre o, in assenza di questo, i due re decidevano chi doveva essere lo sposo. Anche per le donne, esattamente come per gli uomini, erano contemplate le relazioni di tipo omosessuale. Polivio ci racconta anche di una pratica diffusa a Sparta che era quella della poliandria adelfica, cioè il fatto che una donna potesse sposarsi con più uomini, fratelli fra di loro, e questo al fine di limitare la divisione dei beni familiari attraverso le doti. E proprio per la dote a Sparta anche le donne potevano ereditare i beni paterni, esattamente come gli uomini, e se la donna era figlia unica o era l'unica figlia rimasta in seguito magari ad eventi bellici, veniva definita patrucos, cioè detentrice dei beni paterni. Ovviamente poi su di leri cadevano tutte quelle limitazioni nella scelta dello sposo che abbiamo già detto. Questa pratica, quella di permettere alle donne di ereditare, era una pratica che viene lamentata fortemente da Aristotele, il quale per esempio ci dice che ai suoi tempi la gran parte delle terre della Grecia erano in mano alle donne. Siamo giunti al termine di questo viaggio. Se il video vi è piaciuto, un commento e un mi piace sono il modo migliore per farmelo sapere, per farlo sapere anche a YouTube. Io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Arrivederci! E questo perché i lavori più umili erano di competenza della classe degli gli o... gli o... andavano anche nella direzione di limitare il più possibile... Ma perché? C'è poi da dire che quando gli spartiati andavano in guerra, l'intera gestione del bene... nell'utilizzare dei monili e dei gioielli riguardava però solo le donne nonne, le nonne, le nonne, le nonne nubili, le nonne nubili perché ovviamente sono le nonne e non le donne.